musica Ciao a tutti ragazzi e bentornati qui sul mio canale KUKOGALOX Oggi sono qui in compagnia di Blur Proprio lui Ciao belli E siamo qui raga per portarvi Un nuovo switch gunster Che in pratica serve quel format In cui ogni kill si va a Switchare armi Io ho una classe con due armi principali E ogni kill cambio arma L'obiettivo del video di oggi è fare almeno RATE O3 ragazzi però le armi in questione Sono fortine nel senso E non sono nient'altro che l'HG40 e il Garan Quindi le due nuove armi appunto che abbiamo trovato Forse le più forti che abbiamo trovato Nelle casse finora e quindi ho pensato bene Di fare una cosa di questo Quindi signor Blur come la vede Questa switch guns come potrebbe andare Secondo lei Ma guarda Beppe se la lobby non è delle Più forti probabilmente Riusciremo a portare a casa un ottimo risultato Lei dice Sì sì sono sicuro Blur si è promesso di fare almeno due nuclear Visto che Mancu Ha fatto quasi un nuclear No no non erano due Erano quattro Quattro Ah sì sì quattro Scusa Quindi No vabbè a parte le cazzate L'obiettivo Lo scopo di Blur ragazzi sarà quello di chiamare le streak Ma chiaramente non ce la farà mai Quindi non lo so Perché si qui Blur Dimmi perché ti ho invitato Non lo so sono tipo il topolino bianco cavia no Non lo so Non lo so che sei invitato Puoi venire a fare un video se vieni Però di fatto l'avrei voluto fare anche con Non lo so con il mio cane Tanto alla fine le streak non le chiama Quindi Quindi Sack Allora Allora C'ho un odorino di pizza in casa Oh sì Raga prima Blur ha detto una delle cose più brutte della sua vita Ha detto Mi son messo un dito nel culo Raga ve lo giuro No non è vero No si può si metterla Mi son messo un dito nel culo E sa di gatto Io vi giuro Cioè voglio dire Può succedere Allora raga Ma l'hai detto lo scopo Cioè l'hai detto tipo L'obiettivo Sì rate o tre Ah ok No come tre Prima era due E ho cambiato perché sto usando armi forti quindi Mamma mia Ma secondo me non ce la fa Dai ma puoi giocare così maton Sto facendo negativo No rate o uno Ragazzi quando giocate nelle lobby di Black Ops 3 La prima cosa che dovete fare è leggere i nomi della gente contro Vediamo Ecco guarda quello Ti giuro Io giuro Ma che è È giapponese cavolo Levati Minchia che lobby Vai 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 Io credo in te nel cuore mio Naruto Naruto Ti giuro Devi aiutarmi Blur Ah ma qui devo andare sul muro Madonna io stavo per cascare per terra Mai giocato a stava mappa in vita mia Giuro Devo fare rate o tre Secondo te posso farcela Secondo me no Ma certo ma certo Ma sai perché Perché è un gran compagno di squadra E ti lanciano tanti quelli Uav Che muore a due di fila ogni volta Allora sto facendo 6-3 Dai altre 3 kill e siamo rate o tre Poi ti fermi Solo altre 3 kill dai Che ci vuole Poi ti camperi Che ci vuole No ma Mori in merda Mamma mia ragazzi Non ho colpi Ti preoccupi Prendi questo azor back per terra C'è un tipo C'è un tipo proprio lì Dove stavi prima Dove Dove Oh siamo circondati Olè Bravo Eh sì lo esauriamo Carichiamo Contraattacco vai Sono a rate o tre Non vorrei dire No no non ci sono ancora Keep going Keep going I believe in you like Virgin York Montana Offanculo Io sono a rate o meno tre Time blur ma Almeno tu fai qualcosa Chiama delle streak Ci proverò Beppe Sì ma questi sono troppo forti Ti rendi conto che ogni kill che faccio Che ogni morte che faccio Devo fare 3 kill Cioè se tipo ora muoio Per recuperare Poi devo fare 3 kill Eh ma se lo dici Morirei di sicuro Devi anche essere un pochino ottimista Oddio Ok mi sta andando bene sai Eh lo vedo lo vedo Ottimo Stai radio 4 praticamente Sì Sì devo cercare di non morire Eh no non va bene Devi fare radio 3 Radio 4 non lo vogliamo Mi dispiace Visat Tieni Ma come Ma io vediamo Ma te voglio benissimo Vai tenere un Sei tu che dovevi chiamarlo Non io No no Non erano Infatti non erano questi Non erano questi i fatti Va bene così Va bene così Ma guardalo Oddio che bello il visat Mi sento quasi forte Quando ho un visat No non è vero Voglio anche con quello Oddio guarda davanti a gente Oh C'è uno sbordello di gente Oh cazzo Oh cazzo ma sono tutti qua sopra Su serio Sì 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 Stanno tutti qua sopra Ti giuro Ma sei serio Ma stai andando veramente No ma fai schifo Raulito No te lo giuro Te lo giuro È uscito No vabbè Merda Ok Ma che siamo 17 e 4 Ce la vedo a farmi i calcoli Che io faccio proprio schifo A fare i conti 17 e 4 È ottimo È ottimo È tipo Che rarato 3 ce l'avevamo anch'io Sì 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 4 4 e 12 Sì stai sopra Stai sopra Non ti preoccupare La tua matematica Se la matematica non è un'opinione Levati 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 Sono bravo Ho chiamato uno wav comunque Non per di niente Grande Ti ringrazio Hai il tuo questo wav Sì sono è mio Porta anche bene Guarda Sei proprio il miglior supporter Ti giuro Ti ringrazio Oh cazzo Oh cazzo Oh cazzo Oh è morto Vaffanculo Sono rattio 4 Vai 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 Raga dobbiamo mantenere questa costanza Dai Sì sì Anche questa virginia Dobbiamo mantenere Ok basta Cazzo aspetta un po' Ma che cazzo Non hai capito Ti è piaciuto Io vi giuro Ma secondo voi Blur Qualche quanti problemi mentali Ha raga Tanti tanti Come stai andando Fammi vedere Ma sì ma sì Oh wow Faccio la feed proprio La feed quella a 4 Con due armi Mamma mia Sai che qua t'ha Io che poi devo anche stare concentrato A ricordarmi che arma sto usando Eh certo Sembra giusto Cioè qua Qua c'è un lavoro mentale Che tu non hai idea Frate Mamma mia Di sicuro non ho idea Sono la persona che usa meno il cervello In questa vita E quell'altra Cazzo Oh avvia e contraattacco Vai tiro tutto Tanto manca ancora un bel po' Eh madonna Manca uno sbrago Qui vai pure per le 50 a più Muore Non muore No no Io scappo da qui Ho quasi il visat No vabbè quasi no Però tra 5 kill Vai 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 Sai 5 kill sono pochi Ma sì ma sì Ma si può Oh stanno tutti fermi allo spawn Ma proprio fermi Oh Come è Blur Cosa stai facendo Blur Ah sì Ho fatto un macello Ti giuro Mi sono quasi emozionato Ma dove sono i nemici Contraattacco Uav Ho lanciato pure i frame Prendiamo A Prendiamo A Prendiamo A Prendiamo A Vai che prendo il visat 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 Ce l'ho Ce l'ho Perciò ora non abbiamo il visat Godo Mamma mia Mamma mia Mamma mia la Rato 3 raga La Rato 3 La Rato 3 challenge Sono 28.5 Sono quasi a Rato 6 Per poco non sono a Rato 6 Oh no Ho sbaglio Non mi inganna Non mi stai ingannando la matematica Vero sono quasi a Rato 6 Ho sbaglio A quanto stai 28.5 5.25 Sì sì Sei quasi a Rato 6 Sì per 5.30 Quindi raga 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 Mi piace Mi piace come sta andando Eccitando più dei baffi di Manco Anche se è molto difficile Allora i baffi di Manco Ti eccitano in maniera Che non puoi Paragonare a nulla Sembra uno di quei topolini Che mangia il formaggio Sei mai stato Sei mai Sei mai stato accarezzato Dai baffi di Manco No Tipo una spazzolata Che schifo Per favore Poi tossico com'è I baffi mentre sanno di birra Guarda me l'immagino Ti viene tipo Vai in overdose Soltanto se ti tocca con quei baffi Mi è piaciuta questa Mi è piaciuta Di norma fai delle battute di merda Ma questa mi è piaciuta Veramente io Sono famoso per la mia ironia Il mio humor francese Incredibile Sì ma sto visat Non mi ha aiutato per niente Cioè tipo Non l'ho sfruttato Ma io ti giuro Sto facendo un casino Sì Sto facendo proprio un casino Basta che ti ricordi di cambiare le armi Guarda Quello è importante Tranquillo mi ricordo Oddio ma stai 34 e 5 Ma mio dio Noo mi ha ucciso Noo 34 e 6 Conta che ogni morte Tipo Sono tre Tre kill in più Che devo fare Che non sono poche Quindi devo stare massimo attento Cioè non posso permettere di morire Capito Non ti preoccupare Ora ti chiamo Una carica nucleare Ok Sì vabbè blu Ah ma non è mv2 Ah cavolo Mi pensavo stessi giocando mv2 I'm sorry I'm sorry Non sto facendo più una kill Il peggior secondo round della mia vita Oddio no Io vorrei che finisse ora la partita Perché Eh Troppo facile Come sono 36 e 6 Io di norma a questo gioco Ci gioco tipo barbone No Un barbone style Che prendi le armi da per terra E continui così all'infinito Bello Potrei farlo un video con quella cosa È bellissimo Lo devo già fare Sì sì Poi funziona Cioè stranamente le armi Quando le prendi da per terra Sono sempre più forti Oddio Oddio Ho tornato uno tipo Ho orgasmato malissimo Ti giuro L'ho sentita Cazzo Hai sentito Sì sì Mi è piaciuto Mi si è veramente alzato il fringulo Lascia perdere Cosa Il fringulino Contrattacco Vai 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 Torna a parlare dei baffi di Mancu Sì Sono così Torna a parlare di cose serie Vedi godi anche semplicemente al nominarli Porca miseria Ma ti giuro è normale come reazione Mi stanno inseguendo È assolutamente normale Non te ne vergognare E quando saputo che non veniva a Romix Ho avuto un attimo di depressione Poi Sono tornato in me Hai pensato al fatto che non ci sarà Eh no Lo volevo ospitare a casa E poi intrufolarmi nel suo letto No 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 Allora Allora Dici tutto Dici tutto Vabbè sta andando una bomba Beppe No no Sono morto in serie Di nuovo mi sto incazzando Quindi Sei triste che manco non ci sarà a Romix Raga mi raccomando Questo Lo ripeto Tanto lo devo dire mille volte Perché voglio che veniate in mille E il venerdì sabato e mezza domenica Probabilmente saremo a Romix Io e Blur Proprio noi Eccezionale Quindi Sì Tutti voi Dovete venire raga Tutti Cioè dobbiamo proprio spaccarla con la fiera Certo Che non mi è piaciuto Che hai detto probabilmente Cioè cos'è che me la stai tirando Ce la stai tirando Non lo so Terribile Mi ha ucciso con un tomoc No a parte le cazzate Stand di me la godo raga Saremo lì Quindi tutti allo stand di me la godo Quei giorni Mori Merda Perché ci troviamo tutti lì E facciamo tipo un bordello L'ho preso Ho preso l'uav Raga portate Portate delle spazzole Che possono Che possono simboleggiare i baffi di Mancu E le spazzole migliori Faremo le foto E le spazzole migliori E ci avranno un premio Immagino Pezza che strano Il premio sarà un bacino Un bacino da chi? Da chi? Io dal bacino Da me sono più bello Sono molto più elegante E dai io lo tu allora No no oddio personalmente no Guarda Olè Olè Mamma mia 59 Mamma mia Più di ratio 5 Mamma mia ce la fa Eccezionale ragazzi Con la killcam Guarda la killcam Guarda la killcam Ragazzi Ragazzi Che dire Io spero che questo video vi sia piaciuto 10.000 mi piace Eccezionalmente 10.000 mi piace Passate nel canale di Blur Perché qualche giorno fa Abbiamo messo un video nel suo canale Ragazzi Il leggendario secondo me Uno dei migliori video Che abbiamo mai fatto Dovete andarvelo a guardare Un 1v1 Quindi dovete andare assolutamente E niente Ringrazio lui appunto per aver partecipato E proponete qua sotto Le armi Da utilizzare appunto Nei prossimi video di questo tipo Spero vi sia piaciuto E ci becchiamo stasera Ciao Ciao belli